Stiamo esaurendo le scorte Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Rinforzi in arrivo www.mesmerism.info Rilevato ostile con corazza pesante www.mesmerism.info Altri contatti ostili rilevati Ripuliremo questo posto Ritualmente accesso deposito rifornimenti sbloccato rifornia Con voglio di rifornimenti pesante ostile vicino. Rilevati ostili in arrivo. Altri contatti ostili in arrivo. Rilevati ostili in arrivo. Sequestro di ostaggi vicino. Rilevati ostili in arrivo. Rilevati ostili in arrivo. Rilevati ostili in arrivo. Rilevati ostili in arrivo. I Black Tusk hanno preso il Jetherson Trade Center. Troppo tardi. Rilevati ostili in arrivo. Rilevati ostili in arrivo. Tusk a terra! I Black Tusk hanno preso di mira il nodo Shade. Se lo raggiungono, fermali e basta. I Black Tusk hanno preso una torrenta. I Black Tusk hanno preso una torre. 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 Grazie a tutti. Ok, a che punto siamo? In parole povere, chiunque si trovi a più di 70 km da DC è totalmente tagliato fuori dalla rete. Totalmente. E cosa facciamo? Prima di tutto dobbiamo valutare precisamente i danni, che significa andare in luoghi non facilmente raggiungibili. Perché sono in territorio ostile? Non solo. L'alluvione ha fatto un bel po' di danni, soprattutto sottoterra, ed è lì che si trovano molte delle nostre infrastrutture. Ressi che l'alluvione abbiamo trovato una rete? Ressi che l'alluvione ha fatto un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni. Ressi che l'alluvione ha fatto un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni. Ressi che l'alluvione ha fatto un bel po' di danni, che si trovano un bel po' di danni. Agente necessita supporto. Grazie a tutti. 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 Sistema sospeso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.